I sistemi informativi sono il cuore della tua azienda e come tali vanno gestiti con cura. Il loro malfunzionamento si riflette negativamente sulla performance e sulla competitività della tua impresa. Il nostro servizio eZen si prende cura dei tuoi dispositivi informatici e garantisce l'individuazione e la risoluzione dei problemi con rapidità, flessibilità ed efficienza. Grazie al nostro servizio di Remote Assistance possiamo intervenire a distanza per risolvere ogni tipo di problema legato ai tuoi server, storage, dispositivi network, computer e stampanti. Per fare questo ci avvaliamo di software in grado di instaurare una connessione sicura tra i vostri sistemi ed i nostri. In questo modo la tua azienda sarà sempre sicura, funzionale e pronta ad ogni nuova sfida. Il nostro pacchetto eZen include molti altri servizi, tra cui eZenCare, eZenCloud eZenBackup eZenPortal eZenHardwareMaintenance Proponiamo diverse soluzioni contrattuali che permettono di ottenere la proposta più conveniente per le reali esigenze di continuità e budget. Contattaci per richiedere un preventivo o una consulenza. eZen. In armonia con l'informatica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.